chi pensa che l'argomento allegri sia un argomento attuale sbaglia allegri è un argomento molto antico per quanto ci riguarda ben trovati intanto è un argomento che fa storcere il naso è un argomento che non divide è un argomento che unisce perché a fronte del 2 3 per cento di sostenitori che ancora in italia il 98 per cento degli juventini sono uniti contro allegri quando dite che allegri è divisivo sbagliate allegri non è divisivo allegro allegri ci unisce siamo tutti convinti anche chi non lo dice anche chi deve fare a buon viso cattivo gioco anche chi deve nascondersi dietro una falsa diplomazia e ci rendiamo conto per questo e di questo allegri è il karma per i tifosi della juventus dopo i nove scudetti come già vi ho detto in precedenza la juventus ha avviato il nove nato delle vittorie per gli errori di un super milan fatti da allegri altro che goldi montari allegri rappresenta negli allenatori italiani una sorta di libroso ma non lo dicono allegri rappresenta nella nomenclatura giornalistica italiana una sorta di incompetente ma non lo dicono allegri rappresenta nei tifosi delle altre squadre il modo come deridere la juventus ma vi dicono allegri è bravo allegri è vinto perché hanno paura che allegri va via dalla juventus perché sanno bene che senza allegri la juventus torna ad essere vincente quindi si sbaglia quando si afferma che allegri è un divisivo allegri unisce tutto il mondo calcistico italiano europeo sa che questo è uno scarso lo sanno tutti poi ci sono modi e modi di comportarsi ma tutti conoscono l'invalidità di questo personaggio tutti lo sanno lui è in paradiso al dispetto dei santi e fa l'ognorri fa finta di non saperlo ma lo sa bene anche lui sa di essere un fortunato se lui fosse convinto delle proprie idee e delle proprie scelte non si farebbe amici presidenti piuttosto che i direttori sportivi piuttosto che i giornalisti e piuttosto che i capi tifosi non gli servirebbe invece gli serve la corazza perché lui non esprime bravura lui esprime negatività lui esprime mediocrità ma non è che questa cosa è nascosta lo vediamo tutti 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 dispiace che col poco ho sentito il video di andonello stamattina che dice il gioco al massacro non è un gioco al massacro perché vlaovic soltanto chi non vuol vedere non vede soltanto chi cioè chi è davvero in malafede dice che la juve ha perso per colpa di vlaovic per l'errore fatto per diciamo il lo stop sbagliato e lì è malafede non è fede la divisione è sulla fede chi è in malafede finge allora chi dice che la juve ha perso per lo stop sbagliato di vlaovic è in malafede è come gli interisti che dimenticano tutte le loro nefandezze e parlano dell'attualità quando se la juventus si trova al secondo posto lo deve solo ed esclusivamente a vlaovic se la juve è in corso per lo scudetto lo si deve solo a vlaovic e alle sue prodezze per cui chi dice che la juve ha perso stanzino perché vlaovic ha sbagliato lo stop e non dice che mckenny doveva tirare oppure do passare la palla erano meglio posizionati tutte e due e in mala fede perché si vuole giustificare l'operato di un allenatore che ancora una volta a san siro per il suo atteggiamento errato sbagliato ha fatto perdere la juventus e qui entriamo nel merito del contenuto dopo questa premessa io sposo totalmente le parole di nati per vincere di david li sposo totalmente come vedete io mi ascolto anche gli altri quelli che stimo di più fra l'altro perché ritengo che la verità va messa in piazza in tutti i modi david azzecca ogni video su allegri fa bene ad attaccare balzarini fa bene balzarini non è un tifoso della juventus è uno che lavora a torino ha pure la casa affitto a torino non ha manco un appartamento suo perché lui non è di torino e come quando un carabiniere un finanziere li mandano per esempio a fare servizio in una certa città e loro si fittano la casa o vanno nella casa che gli dà appunto il ministero della difesa lui è soltanto uno che deve perché nemmeno balzarini stima allegri deve invece mantenere il punto con la la sua redazione di italia 1 di sport mediaset di pressing con sabbatini che l'ha detto stampa di allegri ha detto samba non ufficiale con Zazzaroni che sta lì io non li sento per fortuna ma conosco la geografia in questo senso Zazzaroni che sta lì perché è voluto da Sabatini per parlare bene di Allegri che se non parla bene di Allegri Zazzaroni non si siede là avete visto Zambini Zambini se ne guarda bene nel discutere Allegri Zambini odia Allegri più di tutti quanti noi in senso assoluto ma deve stare zitto deve fare il diplomatico tutti gli ex calciatori della Juventus anche nella prima gestione di Allegri quando si vincevano gli scudetti mi parlavano contro Allegri totalmente contro Allegri sono tutti contro Allegri è un argomento che unisce non divide allora entriamo nel vivo della discussione perché la Juve ha perso ancora una volta San Sino dopo averci lasciato coppe e coppette perché perché la Juventus rinuncia è un atteggiamento rinunciatario quando io vi dico a me non interessa il gioco cioè io non guardo alla belta del gioco perché a me mi può non piacere il gioco di Klopp e di Guardiola e mi piace quello di Allegri tanto per dire non è una questione di gioco è una questione di atteggiamento tu non puoi mettere il pulmone davanti alla porta e non reagire perché anche l'atteggiamento dell'Inter è un atteggiamento paradossalmente come quello di Allegri nel posizionamento in campo 3-5-2 però è una composizione organica 20 metri davanti all'area di rigore non si abbassa totalmente non ti ci fa arrivare in porta e riparte 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 la Juve quando ha cambiato atteggiamento quando ha tolto da quel punto Locatelli ha messo Nicolussi Caviglia e riparte quindi lui sbaglia i calciatori Locatelli si abbassa sulla linea dei difensori diventano sei difensori la rovina di questa squadra è la presenza di Locatelli totalmente quando vi dicevo che era un difensore nessuno mi credeva quindi è l'atteggiamento se tu a Locatelli e a Rabbiò gli dai dei compiti ben definiti di difesa è chiaro che questi non ripartono mai nella mentalità se nel possesso palla del playmaker non si muovono i quinti non si muovono gli interni e quindi se ha un gioco molto attivo e anche propositivo è inutile cioè allora quelli prendono la Juve con questa palla e rimane là fermo la rimettono un'altra volta nella metà campo avversario e venite attaccateci voi siete matti ma è possibile poi tu metti la difesa nell'area piccola prendi l'autogol di Gatti perché la palla rimbalza rimbalza tante volte in area di rigore fino a quando ci va dentro a Monza è successa la stessa cosa a Frosinone ha preso un gol perché ha fatto giocare Danilo che non è un centrale difensivo e da quando c'è Danilo Kostic ormai è privo di giocare Kostic nell'Eindraith di Francoforte giocava nel 4-3-3 alto a sinistra era una punta esterna nella Juve è adattato quinto ma quinto del centrocampo diventa quinto di difesa perché tu la squadra la tieni troppo bassa quindi è l'atteggiamento che è sbagliato è l'atteggiamento che non che non risponde alle caratteristiche calcistiche cambiasse l'altra sera a Milano ha sbagliato mille passaggi ma perché non hanno i punti di riferimento quando prendono il pallone non sanno a chi darlo perché tutto avvanvera perché non glielo dice perché non fanno schemi e i giocatori poi parlano quando se ne vanno dalla Juventus perché all'interno non possono parlare che si fa una critica giustamente viene pulito ma è anche giusto i giocatori sono scoglionati lui non indovina una formazione Danilo è improponibile guardate Danilo è improponibile cioè tu fai sei rischiette con Rugani Bremer e Gatti poi metti Danilo e si sfascia tutto totalmente comincia a prendere gol ma ti vuoi rendere conto lo dice il campo o non ti vuoi rendere conto cioè qui siamo di fronte ad uno ad un ignorante ad un ottuso con la testa quando vi parla di cavalli di cortomuso di quella cosa che tiene di paraocchi che hanno i cavalli vi dice quelle cose perché la sua mentalità è quella non è aperta come calcio è inadeguato questo ve lo metto per iscritto non allenerà nessun'altra squadra non se lo prende nessuno nessuno se lo prende inutile che scrivano proposte qua e là nessuno non l'hanno voluto nemmeno in Arabia Saudita e purtroppo ci ha rotto i coglioni ancora una volta dell'Aurentis che ha ritardato di un anno all'arrivo di Sarri e ha bloccato quest'anno Spalletti perché la Juve aveva preso Spalletti ve lo dico per l'ennesima volta ve lo dico ufficialmente lo avevano già bocciato quelli che oggi ne parlano a favore lo hanno bocciato e anche l'arrivo di Giuntoli come vi dicevo l'altra sera è un arrivo che è ritardato perché Giuntoli doveva arrivare insieme a Spalletti qua a Torino ci troviamo di fronte ad un argomento che unisce e unisce molto e allora l'atteggiamento tu vai in Supercoppa lasciamo stare gli errori arbitrali stai 120 minuti nell'area tua contro l'Inter di Inzaghi vai a giocare in Coppa Italia stai 120 minuti in area tua l'anno scorso la finale di Coppa Italia non sai mantenere il risultato e ti fai fregare ma Inzaghi gli rompe sempre il culo glielo fa sempre così lascia stare le due partite che ha vinto l'anno scorso anche nella partita in cui la Juventus l'anno scorso ha vinto 2-0 a Torino là l'Inter il primo tempo fa 6-7 gol non c'è nulla da dire ma ricordiamo ci ricordiamo o dobbiamo essere disonesti intellettualmente allora il suo atteggiamento è sbagliato chiudere la Juventus nella propria area di rigore vuol dire prestare il fianco a delle disfatte si parla oggi del mondiale per club la Juventus ha 47 punti il Napoli ha 41 vedrete il Napoli lo faranno qualificare contro il Barcellona perché non vogliono la Juventus al mondiale non la vogliono e allora il Napoli si qualificherà contro il Barcellona e la Juve andrà fuori dal campionato mondiale e chi sarà il responsabile Allegri colui che ha disputato negli ultimi due anni la Champions League con la Juventus facendola uscire agli ottavi contro il Villareal quindi perdendo punti per il ranking e facendolo uscire ai gironi contro il Maccabi e il Benfica avete capito che danno economico avrà la Juventus per colpa di Allegri se il Napoli si qualifica per il mondiale per club o non vi è chiara questa cosa dei danni che fa allora questo è un atteggiamento è un atteggiamento sbagliato lo stesso atteggiamento che ha messo fuori la Juve e Gironi in Coppa dei Campioni lo stesso atteggiamento e dico lo stesso atteggiamento che ha fatto uscire la Juventus con il Sevilla in semifinale di Coppa UEFA dell'Europa League lo stesso atteggiamento della Juventus in Coppa Italia contro l'Inter lo stesso atteggiamento di Firenze di Milano di Bergamo con l'Atalanta di Salerno dove è andata bene perché Vlaovic in alcune circostanze ha segnato Kini in altre circostanze ha fatto il fenomeno addirittura a Firenze segna Miretti ma lì a Firenze la Juventus mi ha fatto vergognare calcisticamente ma non solo a Firenze a Bergamo con l'Atalanta a Salerno con la Salernitana a Lecce a Lecce lascia stare il 3-0 arrivato nel finale quando ha fatto dei cambiamenti ed è stata l'ultima vittoria della Juventus a Lecce o non ci rendiamo conto di questo che è l'atteggiamento sbagliato non c'entra il non gioco io non parlo di non gioco è l'atteggiamento un atteggiamento che non offende ma difende questo è sbagliato il calcio è fatto per offendere lì c'è una porta dove bisogna segnare la Juve non sa arrivare verso quella porta poi si ci mette anche la mancanza di schemi la mancanza di organizzazione si ci mette tutto e allora è chiaro che è un fallimento è totalmente un fallimento ecco perché Allegri non è un argomento divisivo ma è un argomento di unità nel mondo del calcio tutti sanno che è scarso poi ci sono i venduti gli amici e ci sono i diplomatici come vi ho detto prima ma i venduti sanno bene ma perché voi sapete pensate che Sabatini Zazzaroni Giuliani e l'altro là pensano bene di Allegri no 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 pensano male ma difendono l'amico il loro amico francamente lo farei pure io l'ho fatto in passato non nel calcio gli amici si difendono soprattutto nei momenti di difficoltà per cui Sabatini Sabatini che suggeriva l'acquisto di Vlaovic perché glielo aveva detto Allegri e la cacciata di Ronaldo perché glielo aveva detto Allegri è quello che sa bene che Allegri è scarso ma è il suo amico del cuore e lui glielo ha detto sta cioè umanamente vanno compresi come uomini però dei falsi fingono quindi chi ne parla bene chi lo defende a spada tratta è soprattutto colui che non lo stima calcisticamente come si fa a stimare uno che non ha le fondamentali non ha le basi per fare il gioco del calcio ragazzi questo viene da quattro esoneri ma nessuno ve lo dice esonerato col Sassuolo esonerato con il Cagliari esonerato con il Milan esonerato con la Juventus viene da quattro esoneri o forse questo ve lo dimenticate lui allena per l'amicizia con Andrea Agnelli ma ancora questa presenza è una presenza ripeto molto molto particolare perché io so per certo che le avevano cacciate lo so per certo avevano preso spalletti ma anche le dichiarazioni vi ricordate con Calvi quando disse io all'inizio del ritiro sono qua non sono gli altri infatti lui c'era e Calvi no perché De Laurentiis si è infrapposto tra la Juventus e Spalletti e il ritardo di Giuntoli fu anche quella la scelta di De Laurentiis e fino al 30 luglio perdono fino al 30 giugno non lo ha fatto arrivare a Torino ma era stato messo fuori era stato già bocciato da questa dirigenza totalmente bocciato poi naturalmente si ragiona ma Calvi come vedete non c'è più è fuori è all'Atre non va nemmeno vedere le partite o non vi siete accorti di questo quindi chi parla di Giuntoli o meglio di Allegri come un divisivo sbaglia Allegri unisce tutto il mondo del calcio lo sanno tutti che è un ignorante matricolato lo sanno tutti lo ripeto lo sanno tutti il suo atteggiamento ha finito per distruggere la Juventus distrutta perché questo è al terzo anno in cui non si vince niente se la Juve non vincerà lo scudetto che è ancora in corsa lo scudetto è ancora in bilico l'Inter è crollata atleticamente e anche la Coppa Italia che è alla portata per questo organico per questa squadra mi fermo qui vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube Sergio Vessic ad attivare la campanella delle notifiche a mettere un like se lo ritenete opportuno nelle prossime ore torneremo su Allegri ma anche su Aleksandro perché c'è una novità c'è una chicca molto particolare che vi racconterò alla prossima grazie